Questa città è bellissima, il professore Crisci, il professore Urti, l'avvocato Guido Maurano, il professore Aldo Botti, Paolo Caputo, Enzo Barone, Crispino, l'avvocato Mautone, Domini, Di Marco, Paolo Serra, il dottore Isidoro Pacifico, Agostino Di Bartolomei, Franco Alfieri, Adamo Coppola. Li voglio ringraziare ad uno ad uno perché ognuno di loro ha dato il proprio contributo. Voglio ringraziare in modo particolare mio cognato Germano Rizzo che non c'è più, che è scomparso da qualche anno, che ha speso la sua vita in decine di iniziative, tutte orientate a far crescere la bellezza di Agropoli. Da lui ho imparato una cosa molto importante, che non conta vincere o perdere, conta come si gioca, come si gioca la partita e lui l'ha giocata con i valori dell'onestà, del rispetto dell'avversario, del credere sempre nel dialogo e nel confronto. Voglio ringraziare Massimo Laporta che mi ha concesso questi pochi minuti del suo spazio. Dico subito che non sono un candidato, la mia presenza qui è una presenza un poco anomala, in quanto porto il pensiero di migliaia di cittadini agropolesi che in questo periodo della campagna elettorale hanno pensato delle cose. Sono qui per rivolgere a Franco Alfieri tre domande, che non c'è dubbio se perde scompare dalla scena politica, se vince beh lo teniamo qui altri 50 anni e lo terremo e lo ospiteremo come abbiamo fatto sempre con tutti. Dico se vince o perde Franco Alfieri perché oramai la posizione è chiara, l'andamento di queste elezioni ha fatto sì che il vero candidato del centro-sinistra non fosse Roberto Mutalipassi, bensì Franco Alfieri. Ma non è una presa di posizione. Ai comizi Franco Alfieri di Roberto ha detto solo, caro Roberto votate Roberto perché è bravo e buono ed è il sindaco ideale, punto. Per il resto ha parlato più lui che il candidato sindaco. In un'ora di comizio Franco ha parlato 45 minuti, i 15 minuti di Roberto sono stati dedicati più al dire a ragione Franco. Hai parlato solo di te, di quello che sei, di quello che fai, di quello che farai se vince Mutalipassi. Hai parlato da presidente dell'unione dei comuni cilentani, hai parlato da delegato della regione Campania, hai parlato di sindaco del comune di Agropoli dal 2007 e dal 2017. Poi, sempre caro Franco, a più riprese anche in televisione hai detto che tu ami Agropoli, che hai un debole per Agropoli, che hai il diritto, ha detto proprio così, di mettere il naso nelle cose di Agropoli e che non è indifferente alle vicende di Agropoli. E qui è la prima domanda che ti rivolgo, Franco. Se ami tanto Agropoli, se ci tieni veramente ad Agropoli, se volevi fare sindaco ad Agropoli, se volevi portare a termine il tuo programma interrotto come dici tu da Adamo Coppola nel 2017, perché non hai fatto l'unica cosa che dovevi fare? Dimetterti da sindaco di Capaccio e presentarti come sindaco nel comune di Agropoli. Era semplice. Bastava che ti dimettevi da sindaco del comune di Capaccio e nei termini previsti presentavi le tue belle liste, ti presentavi come candidato a sindaco e realizzavi il tuo sogno di lavorare per Agropoli. Perché non lo hai fatto? Franco, lo so che tu mi risponderai o non mi risponderai, molto probabilmente mi prenderai anche in giro, ma dopo, se i cittadini che restano lo desiderano, dai una risposta a loro. Perché se non rispondi, i maligni, sai che cosa possono pensare? Che non lo hai fatto perché vuoi essere l'unico, l'indiscusso ed indiscutibile capo del Cilento. Vuoi essere contemporaneamente sindaco di Agropoli, sindaco di Torchiara, sindaco di Capaccio, sindaco di tutto il Cilento, ma sai che non funziona così. Spesso nei tuoi comizi e negli incontri che hai avuto, li ho seguiti quasi tutti quanti, hai parlato come presidente dell'unione dei comuni cilentani e hai detto guarda che ci sono una barca di soldi, tanti progetti che vedono Agropoli in prima fila, io mi impegnerò perché questi si realizzeranno e però votate mutali passi. Ora, tu essendo il presidente dei comuni cilentani, a, non dovevi prendere posizione per uno dei candidati perché Agropoli, come Torchiara e come altri, sono e fanno parte della comunità dei comuni cilentani. B, dicendo vota mutali passi, hai dato l'idea a chi ti ascolta che se non vince mutali passi questi progetti per Agropoli ci saranno lo stesso, questi soldi? Mi spiego, puoi dire dopo, cari agropolesi, se perde mutali passi io avrò lo stesso impegno per Massimo Laporta che vince le elezioni e sarò un vero presidente dell'unione dei comuni cilentani. Caro Franco, se non rispondi i maligni potrebbero pensare che hai messo in campo tutti questi progetti e tutti questi soldi per orientare il voto verso mutali passi, il che non è proprio una cosa del tutto corretta. Alla terza domanda, hai detto che è stato il gruppo dirigente a non volere la ricandidatura di Adamo Coppola. Ora, non ricandidare un sindaco che ha amministrato cinque anni per i successivi cinque anni è più un fatto unico che raro. Deve aver commesso qualcosa di talmente grave il povero Adamo da non poter essere ricandidato che ovviamente Franco ha deciso di non ricanditarlo. Perché dico Franco? Perché questo fantomatico gruppo dirigente di cui si ignorano i nomi, secondo me è composto da Franco Alfieri, Franco Alfieri, dal presidente della comunità dei comuni cilentani e dal sindaco del Gavaccio. Come ha giustificato a stile tv Franco il fatto che non ha dato la fiducia ad Adamo Coppola? Ha detto che non è stato in grado di continuare quel percorso iniziato da me nel 2007 fino al 2017. Non è questa la motivazione. I maligni hanno detto che non lo hai riconfermato per due motivi. Il primo perché prendessi il bagno alle elezioni politiche dopo un anno e mezzo di amministrazione Coppola e hai dato la colpa a Coppola. Ma il motivo vero, caro Franco, e sai che te l'ho detto anche in privato, è che a un certo punto Adamo, spinto da me e anche da altri, voleva ragionare con la sua testa, voleva liberarsi da questo cordone umbilicale con te. E tu questo non lo accetti, tu questo non lo vuoi da nessuno, figurarsi poi da Roberto Budalipassi. E' importante che tu risponda veramente perché non hai dato fiducia a Coppola. Vi avvio alla conclusione. Caro Roberto, c'è una cosa pure per te. Sai che ti stimo. Ma hai visto i video che girano su internet? Sono imbarazzanti. Roberto, tu non meriti questo. La tua famiglia non merita questo. Hai riflettuto che di te Franco ha detto solo, caro Roberto, sei onesto, sei buono, è il sindaco ideale. Roberto, ma veramente credi di essere il sindaco ideale per Franco Alfieri? Veramente credi di essere il sindaco ideale per Agropoli? Robè, te lo dico perché ti voglio bene, se io fossi in te stasera rinuncerei alla mia corsa alle elezioni, perché non meriti di non essere considerato per quello che sei. La tua opinione, Robè, non esisterà. Non esisterà, esisterà il pensiero di Franco. Puoi fare una prova. Nel caso dovessi vincere, ma non te lo auguro. Prova a dire a Franco, gli assessori li scelgo io. Farai un volo dal terzo piano del municipio. Per quanto mi riguarda, io voterò Massimo Laporta, perché... Perché, caro Roberto, tu lo conosci molto meglio di me, se tu potessi parlare della bravura di Massimo qui, lo verresti a dire, pendevi dalle sue labbra, pendevi dalle sue labbra. Poi è successo qualcosa di indicibile o di dicibile, non lo so, è successo qualcosa che ti ha fatto fare questo scatto in avanti. Per quanto mi riguarda, io voterò Massimo Laporta. Lo ritengo bravo, perché lo vedo e percepisco sincero nel suo voler fare qualcosa per Agropoli. Soprattutto, lo vedo come un sindaco libero e liberato. Lo vedo come un sindaco rispettoso dell'altrui libertà. dell'altrui libertà ha come cifra l'umiltà di chi sa veramente che da solo non si va da nessuna parte. E' ora di dire, io non ci sto, io sono un uomo libero. C'è chi dice no, c'è chi dice no, c'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non ci sono, c'è chi dice no, c'è chi dice no. Affollano la piazza in attesa di ascoltare le verità, di ascoltare qualche persona sincera che trasmette un messaggio. Voglio salutare innanzitutto le famiglie, vedo tante famiglie raccolte qua che ritornano alla passione della politica. Voglio salutare in particolare la mia famiglia, le mie figlie, perché è un dovere in quanto in 30 anni di passione politica ho sottratto a loro tanto tempo, me ne pento un po'. Però dico ai giovani, con la consapevolezza di chi ha la passione per questa arte nobile che è la politica, che se dovessero essere accarezzati dalla volontà di fare politica, di prestarsi al sociale, ne vale la pena. Fatelo ragazzi, fatelo giovani, avvicinatevi alla politica, date un contributo alla vostra comunità. Sono solo a farvi delle considerazioni, stasera non dedicheremo tempo a nessuno, dedicheremo tempo al nostro pensiero, dedicheremo tempo al nostro progetto di città futura, alla nostra idea di un'agropoli libera, nuova, moderna. Che cosa abbiamo noi in mente per questa città? Perché abbiamo sposato un progetto meraviglioso? Adesso ve lo dirò, vi voglio dire che abbiamo fatto una cavalcata incredibile, abbiamo incontrato le persone, gli anziani, i giovani, soprattutto chi soffre, abbiamo incontrato una comunità che era desiderosa di conoscere, di sapere cosa fosse accaduto in questi anni ad Agropoli. Lo abbiamo spiegato, abbiamo consumato del tempo, ma con grande piacere, abbiamo spiegato cosa è accaduto in questi 15 anni. Bene, la gente era desiderosa di conoscere, era con una voglia di darci un consenso, di darci un apprezzamento, di liberarsi da un pensiero che per anni è stato oppresso, è stato costretto, non hanno potuto parlare, non hanno potuto dire il loro pensiero, i loro giudizi, le loro verità. La gente non ne può più, è stanca, cambierà, cambierà le sorti di questa città. Sono convinto che il 12 giugno ci sarà una grande svolta. Noi siamo di fronte a una sfida importante, siamo di fronte a una sfida che ci mette a giudizio, a giudizio di capire cosa vogliamo da questa città. Guardate, noi abbiamo una squadra di giovani, di ragazze, di qualcuno con grande esperienza pure. Stasera mi hanno dato il compito di aprire questa corsa all'appello al voto, di aprire questa serata che chiude un po' la campagna elettorale, che credo sia stata, salvo qualche piccolo episodio, garbata, sobria. Noi l'abbiamo fatta col nostro stile, con la nostra educazione, con i nostri modi abbiamo chiesto il consenso con grande rispetto, con grande umiltà, con grande decisione e con grande fermezza, senza mai prevaricare o imporre un voto. Abbiamo avvicinato la gente in maniera corretta e silenziosa e gli abbiamo spiegato i motivi. I motivi che vogliamo portare a questa città sono diversi e fondamentali. Questa città ha bisogno, l'ho detto anche un po' di giorni fa, di una ripresa in alcuni comparti fondamentali, di una ripresa del volano, del comparto turistico, ma che sia una vera ripresa, che ci sia dedicata un'attenzione importante, perché qua si parla e si fanno solo opere faraoniche, opere megagalattiche, che poi progettano, mettono nei cassetti e dormono. Noi vogliamo fare la comune amministrazione, vogliamo stare vicini ai cittadini, vogliamo riportare questa città allo splendore che aveva qualche anno fa, allo splendore che merita. Noi vogliamo dare un segnale forte al turismo di questa città, vogliamo interessarci del turismo portuale, vogliamo stare vicini agli imprenditori balneari che soffrono da anni, vogliamo ridare al turismo uno slancio, anche come attrattore enogastronomico, agricolo, nel turismo delle manifestazioni, dei grandi eventi, così si allarga la visione turistica di una città, non pensando ai mega investimenti che ci vengono a propinare dalla filiera istituzionale, la solita filiera che ha rotto le scatole, quella non è una filiera, è un sistema di potere consolidato per qualcuno di loro e non per gli interessi di un paese, quella è la filiera. La filiera va considerata, come abbiamo fatto noi, che silenziosamente abbiamo portato qua istituzioni di governo che ci hanno garantito l'impegno del governo nazionale quando si divideranno il nuovo piano di finanziamenti di ripresa e resilienza. Abbiamo chiesto agli organi di governo di starci vicino, allora sì che porteremo una ventata economica al Comune di Agropoli. Questa è la filiera istituzionale reale, vera. Abbiamo interesse a dare attenzione al comparto del commercio, il comparto del commercio sta morendo, il comparto del commercio merita una nuova regolamentazione, merita un'attenzione vera, merita un'attenzione nelle facilitazioni, nelle agevolazioni fiscali, perché se noi, i commercianti, saranno costretti a chiudere, questo corso morirà. Noi dobbiamo essere vicini a loro, non vicini ai grandi interessi, vicini agli interessi di chi ancora la mattina apre la sala cinesca, di chi ancora soffre, di chi soffre per portare avanti la famiglia. A quelli dobbiamo stare vicini, alla gente che ha necessità. Dobbiamo fare attenzione, signori cari, al mondo della scuola, al mondo del lavoro, al mondo dei giovani. Dobbiamo dare attenzione ai giovani che possano partecipare democraticamente ai concorsi pubblici in maniera seria, in maniera giusta, con le pari opportunità per tutti. Dobbiamo stare vicini a loro, realmente. Dobbiamo evitare che siano accondentati solo coloro che mostrano essere politiche e partitiche, perché questo è stato fatto fino ad oggi. Noi staremo vicini a tutti voi, a tutti i giovani, con le pari opportunità per tutti, perché non vedo qual è il motivo che il figlio di uno deve avere più diritti del figlio dell'altro. Questo è stare vicino al mondo giovanile, al mondo del lavoro. Dobbiamo porre attenzione a questi fenomeni, signori cari. E so, sono certo che col voto del 12 di giugno le vostre coscienze saranno chiamate a dire se questo che noi diciamo è realtà o è fantasia. Se vorrete certificare che questo Paese dovrà finalmente liberarsi. Voi lo certificherete col voto del 12 giugno e sono certo che lo farete. Questo Paese ha bisogno di un'attenzione anche nelle periferie. Le periferie di questa città sono totalmente trascurate. Noi siamo al centro, ma in questo Paese esistono la contrada difesa, la contrada marrotta, la contrada muoio, la contrada crocette, che molti amministratori non le conoscono neanche. Là l'erba ha superato i grattacieli, là le buche non si contano, là l'illuminazione tranne che qualche amico degli amici non c'è. Lo capiamo questo. Si favorisce solo chi è di parte. Questo sistema, questo metodo deve cambiare. Noi lo cambieremo. Se saremo chiamati a governare questa città lo cambierà questa squadra di uomini e di donne. Non lo cambierà l'uomo al comando, Massimo Laporta è il capitano di una squadra e tutti quanti insieme decideranno, decideranno in nome e per conto della nostra comunità che ci ha eletto, di chi ci ha delegato a rappresentarli nell'organo di governo. Questa è la democrazia di una città. Noi saremo vicini, amici cari, alle associazioni imprenditoriali, alle associazioni di volontariato, le imprese sono trascurate da anni. Nella zona mattina noi abbiamo attività imprenditoriali di altissimo livello ma l'amministrazione non le pensa proprio, non è vicino a queste attività. L'amministrazione ha i piani PIP delle mattine, chi è delle mattine lo conosce questo problema, i piani di insediamento produttivo che sono cinque anni che sono chiusi in un recinto e non si sblocca, chissà perché. Eppure quella è un volano per il lavoro, nessuno si interessa, qua ci si interessa delle cose di bottega, delle cose che interessano a pochi intimi e basta. Ora io voglio soltanto dirvi che oggi è una data straordinaria, oggi noi siamo qua a prendere un impegno solenne con voi, col popolo di Agropoli, a prendere un impegno solenne che lavoreremo e metteremo la nostra passione la nostra forza, il nostro coraggio, la nostra onestà, la nostra realtà al vostro servizio, non al servizio di qualcuno che ha i suoi interessi, lo metteremo al servizio della città, lo metteremo al servizio dei giovani, noi riprenderemo il concetto della meritocrazia, riprenderemo il concetto della libertà, della fraternità, dell'uguaglianza, del rispetto per le persone, noi saremo vigili a tutto e prenderemo atto del risultato elettorale, se il popolo ci darà ragione saremo contenti, se il popolo deciderà in maniera diversa chapeau a chi vince, saremo vicini anche a loro, non siamo nemici politici, noi siamo avversari politici, ci giochiamo una competizione sana, sobria, corretta, non scorretta e saremo democratici nella vittoria e nella sconfitta, sono certo però che avremo una grande vittoria perché noi la vittoria l'abbiamo già ottenuta, l'abbiamo già avuta con il consenso della gente, con gli abbracci delle persone, con la fratellanza che abbiamo trovato dappertutto, sono certo che la troveremo anche il 13 nelle urna allo spoglio, questo sentimento di affetto, di amore, di orgoglio, di riscatto, lo troveremo anche il 12 giugno nelle urna con il vostro voto a favore dei vostri figli, della vostra città, del vostro comune, della vostra comunità, il comune diventerà una casa di vetro aperta a tutti voi, a tutti noi, noi avremo una squadra capitanata sì da Massimo Laporta ma condotta da tutti noi su delega vostra, risponderemo alle vostre istanze, ai vostri suggerimenti, ai vostri bisogni, saremo sicuramente coloro che riporteranno la libertà in questo paese, la democrazia in questo paese, rifaremo un'agropoli moderna, l'agropoli del futuro, l'agropoli libera, un'agropoli migliore, noi ci crediamo, aiutateci anche voi il 12 giugno a crederci, stateci vicino, votateci, viva agropoli, viva la libertà, viva Massimo Laporta, grazie, guardare avanti per crescere e migliorare, ma senza mai dimenticare di volgere lo sguardo indietro, per non commettere gli stessi errori, destinazione agropoli, non è fantasia o una favola da raccontare, ma un'attività, nel solco dell'esperienza, della competenza, e soprattutto della voglia di fare e di cambiare, un progetto costruito a più mani, noi con voi, voi con noi, perché nessun marinaio può raggiungere la meta senza il suo prezioso equipaggio. Eccole, le nostre mani per migliorare e costruire insieme come la squadra più abile e capace, perché questa è la nostra grande ambizione, essere uniti insieme e procedere a passo veloce e convinto verso la nostra unica meravigliosa destinazione, Agropoli, la città che ci appartiene. A presto, Tante cose ci siamo raccontati in questi giorni, nel dialogo e nel confronto costruttivo, noi con voi, voi con noi. Questa è la nostra forza. Essere uniti, compatti, pronti a condividere il nostro progetto e a realizzarlo con impegno e professionalità a testa alta, liberi, liberi di pensare, di parlare, di esprimersi con coraggio e convinzione. Convinzione, perché Agropoli diventi la città che merita di essere. E allora, eccoli, i nostri progetti speciali, il polo innovativo tecnologico, il polo museale virtuale, il polo culturale, il polo turismo sostenibile, il polo scolastico, la mobilità griglia. C'è chi dice che i nostri sono progetti megagalattici, ci vorrà solo del tempo per essere realizzati e chi oggi ne ride dovrà dire a se stesso, mi ero sbagliato. Noi cominceremo dalle piccole cose, dalle emergenze da affrontare e risolvere, su cui ci siamo confrontati più volte. Abbiamo un sogno che nasce dalle idee, costruire insieme una città nuova che guarda all'innovazione, ma che non dimentica di valorizzare le sue tradizioni, le sue immense ricchezze. Crediamoci perché il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni, per noi tutti, per i nostri figli, per questa nostra meravigliosa città. Destinazione Agropoli è una promessa. La svolta siete voi. Agropoli, buonasera. Cari cittadini, è stata un'esperienza unica. Io e la mia squadra abbiamo toccato ogni angolo di questa meravigliosa città, ogni punto di questa città noi conosciamo, abbiamo ascoltato i nostri cittadini e l'orgoglio oggi di parlarvi è quello di sentire ancora le loro parole. Perché? 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 E noi ad ascoltare. Sappiate, cari cittadini, che con la mia squadra sarà il punto di partenza e di arrivo a ascoltare e confrontarci con la città e con i cittadini. Quello che ci rimane dentro è qualcosa di unico, di meraviglioso, di speciale, come è questa città. Questa è una città unica, è una città che ha tante potenzialità e noi con voi e voi con noi ci riusciremo. Destinazione Agropoli è una meta che insieme dovremmo raggiungere, è un viaggio che è iniziato qualche mese fa insieme alla mia squadra che stasera voglio ringraziare. Grazie di cuore a tutte e 64 candidati al Consiglio Comunale, grazie, grazie, grazie a voi che a più mani abbiamo costruito questa visione che è diventato un progetto, un progetto che guarda questa città verso il cambiamento, un progetto che credo che cambierà definitivamente, quel metodo inaccettabile, cari cittadini, inaccettabile. Chi vi parla, come ho sempre detto, non rinnega il passato, ma non è possibile accettare le scelte verticistiche che da sempre e ancora oggi subisce questa città. Tutti uniti, cari cittadini, tutti uniti a testa alta, senza nessun tipo di problema, senza nessuna preoccupazione, noi andremo verso Destinazione Agropoli. Destinazione Agropoli, che cos'è, cari cittadini? È un viaggio bellissimo, dove diamo la speranza ai nostri figli, i figli che dobbiamo far rimanere in questa terra, questa terra meravigliosa, questa terra unica, noi andremo avanti, porteremo i nostri progetti, li porteremo per loro, per i nostri figli, per le nostre persone anziane, per le persone diversamente abili, quelle persone speciali, che questa città deve abbracciare sempre di più e noi saremo vicino a loro, noi ci saremo sempre. La speranza delle famiglie che vogliono trattenere i loro figli in questa meravigliosa città ci dà la forza di crederci, come le stesse attività produttive che sono pronte a fare la loro parte dopo un periodo drammatico, un periodo dove hanno sofferto con le loro famiglie, noi saremo vicino alle attività produttive di questa città sempre. Cari cittadini, insieme alla mia squadra ci prendiamo l'impegno di portare avanti quello che vi abbiamo raccontato, quello che abbiamo sottoscritto come programma politico-amministrativo 2022-2027, noi abbiamo la fiducia che domenica 12 voi ci darete questa fiducia, ce la darete, ci dobbiamo credere. Quali saranno le nostre azioni, cari cittadini, nei prossimi cento giorni? Qualcuno oggi mi ha chiamato, un giornalista della città mi ha fatto la domanda, quale sono le priorità di destinazione Agropoli? La prima priorità, cari cittadini, partendo dal mare, dalle nostre spiagge, è quello di eliminare definitivamente il problema della Poseidonia. Lo ribadisco con forza, sarà il nostro primo atto dell'amministrazione La Porta, se voi ci darete questa fiducia. Le spiagge saranno gestite 12 mesi all'anno, il nostro mare sarà la nostra più grande risorsa, perché per fare turismo, cari cittadini, bisogna programmare, e noi programmeremo questa città insieme al mondo dell'associazionismo, al mondo del volontariato, ma con le attività produttive che questa città deve valorizzare, deve dargli fiducia. Il nostro progetto ha due capisaldi, custodire e valorizzare Agropoli, e per noi custodire Agropoli significa dargli ancora di più sicurezza, in sinergia con le forze dell'ordine porteremo avanti un progetto ambizioso, quello di monitorare questa città H24, dare la tranquillità alle famiglie, in particolar modo a tutte quelle famiglie che vivono in periferia. In questi giorni di tour elettorale ho potuto avere riscontro come vi è un'esigenza forte di sicurezza nelle nostre periferie, noi saremo vicino a loro con un monitoraggio H24, non lasceremo indietro le periferie e i loro ragazzi, con un trasporto pubblico integrato. Ogni 20-30 minuti ogni angolo della città trova a essere servita da questo trasporto, un trasporto che rende liberi i figli, le famiglie che possono gestire il loro tempo dopo scuola, e innanzitutto con il trasporto scolastico, perché non è possibile mettere un solo turno se si perde quell'autobus e il ragazzo deve ritornare anche a casa. Esiste anche questa ancora nel 2022 in questa città, cari amici. Il piano commerciale è fondamentale, il rilancio del commercio in questa città deve passare dalla programmazione, quella programmazione che faremo con tutte le attività produttive di questa città, un piano condiviso, non calato dall'alto, cari amici, non sarà mai calato dall'alto, ci sarà sempre il confronto, l'ascolto, la concertazione, sempre. Fare turismo 365 giorni all'anno significa avere dei grandi attrattori, noi lo avremo, l'avremo perché realizzeremo in questo punto della città un grande attrattore, ma nello stesso momento noi abbiamo già un altro grande attrattore, il nostro polo culturale, il nostro bellissimo centro storico, va soltanto curato, un decoro urbano degno di quel posto, ingandevole, unico. La viabilità, i parcheggi sono fondamentali per portare avanti quel programma di mobilità green, che noi come destinazione Agropoli lo diamo come priorità, una priorità assoluta, quello di dare la possibilità a chi viene in questa città, sia come visitatori che come turista, di vivere la città, in ogni angolo della città ci deve essere una mobilità lenta, dove le nostre attività commerciali ne dovranno beneficiare. Questo è il modello, quel nuovo modello che insieme alla riorganizzazione della macchina comunale, che è fondamentale nella pianificazione di tutti gli atti che saranno conseguenziali al nostro insediamento, dovrà essere. Noi riorganizzeremo la macchina comunale, una nuova struttura organizzativa sarà fondamentale per far partire quei progetti che l'Europa ci dà come opportunità. Senza una pianificazione non si può avere l'ipotesi di portare avanti dei progetti che poi riscontriamo delle secche bocciature. Noi porteremo avanti una programmazione compiuta. Le aree che si parlava prima industriali, l'area PIP. Noi abbiamo la località Mattine, dove quel PIP è da anni fermo. Quando ero io assessore sono riuscito ad avere 5 milioni di euro per fare quell'infrastruttura. Ancora oggi è ferma. Noi faremo partire gli insediamenti produttivi di quell'area. Subito! L'ospedale di Agropoli Non posso non pensare a un ospedale che in queste ore arrivano notizie che ci sono prossimi trasferimenti degli infermieri che stanno nell'ospedale Covid verso Vallo. Non è giusto! E non sarà così. Il direttore sanitario Adriano De Vita ci dovrà dare conto di queste ipotesi. Mi auguro che è soltanto un'ipotesi. Noi saremo vigili da domani mattina affinché la struttura ospedaliera ci sia quella pianificazione per portare il pronto soccorso attivo subito in città H24. La Camera Iperbarica è pronta per essere installata. Il finanziamento ci sta. Io faccio una domanda al direttore sanitario e al direttore dell'Asla Salerno. Perché non si parte? Perché non si parte? La Camera Iperbarica è fondamentale nei servizi che porteranno poi anche il pronto soccorso attivo perché ci sono dei servizi essenziali delle attività essenziali. E allora subito subito la Camera Iperbarica. Come vi ho già accennato per noi è fondamentale la collaborazione del mondo dell'associazionismo e del volontariato. In sinergie con le attività produttive noi pianificheremo sempre insieme questa città. Questa è una città che va rispettata va ascoltata va ascoltata da anni non si ascolta questa città come purtroppo ancora si vuole continuare a dare delle false speranze. La cultura dell'Unione cari cittadini mi devo soffermare purtroppo su questa condizione la cultura dell'Unione l'Unione dei Comuni nascono per i piccoli comuni per far svolgere le funzioni associate tra piccoli comuni. Quando il Comune di Agropoli è entrato nell'Unione dei Comuni il sottoscritto era consiglieri di maggioranza. La nostra presenza doveva essere una presenza di sopporto ai piccoli comuni. basta pensare a un Comune come Prignano Cilente che in queste ore è chiamato alle urne non vi è forse una persona per sbrigare tutte le attività ordinarie di un ente e si pensa sempre in grande e non si pensa a quei piccoli comuni. Quello è il ruolo dell'Unione dei Comuni. Noi l'Unione dei Comuni prenderemo in esame con molta attenzione il bilancio e i trasferimenti. Cari cittadini non è possibile che Agropoli deve sostenere l'Unione dei Comuni non è possibile. Pertanto nel rispetto di tutto quello che è stato fatto confrontandoci con voi cittadini noi all'insediamento dell'amministrazione La Porta se voi ci darete questo piacere chiederemo subito gli atti dell'Unione dei Comuni e se non ci sarà chiarezza ci porteremo presso di voi vi elencheremo quale sono le difficoltà i problemi e essenzio dell'articolo 50 dello statuto comunale chiederemo un referendum se rimanere o no all'interno dell'Unione dei Comuni tutti insieme valuteremo tutti insieme il nostro operato sarà sempre quello della cittadinanza attiva il nostro modello è quello di creare un'agropoli moderna con uno sviluppo sostenibile e inclusiva ascolto 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 questa è la parola d'ordine cari cittadini nel fare il tour elettorale riscontro dalle attività produttive e dai cittadini stessi che la società congezionaria ai tributi rivendica anche aree sopra suolo questa è una cosa che ci accerteremo come arriveremo in comune perché non è giusto che dopo il covid le attività produttive subiscono ancora insidie noi porteremo avanti un modello diverso quel modello che darà il vero cambiamento il 12 giugno perché grazie a voi cittadini grazie alla fiducia che darete a me e alla mia squadra noi governeremo questa città lo sento nell'aria cari amici lo sento nell'aria lascio questi ultimi minuti un pensiero importante ai nostri figli ai nostri giovani un appello a loro state vicini interessatevi della politica perché la politica si interessa delle vostre vite del vostro futuro io ci sarò sempre se sarò sindaco di questa città basta fare un messaggio sul mio telefonino e io vi verrò incontro non dovete venire nel palazzo cari giovani non dovete venire nel palazzo io verrò da voi perché voi perché voi siete il nostro presente e futuro siete il nostro obiettivo destinazione agropoli guarda voi con una speranza voi dovete crederci crederci siete i figli di questa terra e noi vi tratteremo vi tratteremo qui perché voi dovete essere il presente e il futuro un pensiero alle mie figlie un pensiero alla mia famiglia a tutti coloro che da sempre mi sostengono con forza tutti i giorni un grande abbraccio e un grazie di cuore cari cittadini siamo arrivati al momento dell'appello finale questa città deve cambiare modello deve cambiare destinazione agropoli è un viaggio bellissimo dove ci porta tutti insieme ad avere la possibilità di far rimanere i nostri figli di far vivere i nostri anziani di vivere tutti noi in un modo libero 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 viva Agropoli grazie Agropoli